Sulla questione dell'inquinamento in città, il Comitato Civico Ambientale, che fa capo a Cosimo Panico, scrive al Comune di Battipaglia Considerando anche i dati messi a disposizione dalla provincia di Salerno, scrive Panico, a seguito dell'attivata svolta del registro dei tumori nella nostra città, è aumentato l'indice di mortalità a causa di neoplasie. Il Comitato Civico Ambientale già ha inviato la richiesta di documentazione all'ente per quanto riguarda la delibera di giunta comunale con nota del registro, col monitoraggio atmosferico sulle polveri sottili e sul superamento dei limiti di legge vigenti, come da notizie di stampa, ed infine informazione e partecipazione alla Convenzione di Arus. Quest'ultimo è un trattato internazionale volto a garantire all'opinione pubblica e ai cittadini il diritto alla partecipazione all'amministrazione e ai processi decisionali degli enti pubblici ad ogni livello, concernenti proprio all'ambiente. La richiesta di Panico, che segue un'altra precedente del dicembre scorso, è volta anche alla sensibilizzazione del Comune su tali temi e sulla salute pubblica, che secondo l'attivista è messa quotidianamente a serio rischio. Grazie.